Il prossimo è un canto che ha regalato una brezza di speranza ai cuori del popolo giapponese che ancora portava le ferite della Seconda Guerra Mondiale, che in Giappone terminò il 15 agosto del 1945. Uscita il 10 ottobre dello stesso anno, fu la prima canzone popolare ad avere un successo nazionale. Nonostante sia un brano dalla melodia dolce un po' malinconico, venne eseguito con molta allegria e positività e questo contribuì a trasmettere nella gente la fiducia per il futuro. Si racconta che la cantante, avendo perduto i propri cari, non riuscisse ad eseguire il brano con la serenità e la gioia che le venivano richieste. Ma le parole del regista, non sei sola in questo triste momento, furono decisive a ritrovare la forza per cantare con la voce colma di positività. Ma le parole del regista, non sei sola in questo momento, fuori del regista. Ma le parole del regista, non sei sola in questo momento, fuori del regista. Ma le parole del regista, non sei sola in questo momento, fuori del regista. Grazie a tutti.